Ricciardo ma è 16 secondi, Ricciardo Hulkenberg, giro veloce, 1.5, 2.6, adesso sarà ovviamente una lontanina di giri veloci, perché la mano che passano sul traguardo, asciuta dalla pista, vedranno ovviamente sempre più forte. Erito Ricciardo, doppia pista di tutti, Erito Ricciardo, morta sul punto del Sainz, che è attaccato a Sainz, fida, veda, quinta posizione,